Cari amici stiamo pescando con i chompers qua sotto, guardate sta laggiù eh, guardate quanti pesci ci sono laggiù Guardate, praticamente c'è il chompers qui, proprio sotto la punta della canna e guardate che mucchio di tinche che sta pascolando vicino sperando che trovi a più presto il nostro ovo Amo, guardate, guardate che spettacolo E speriamo di regalarvi, ne abbiamo già prese qualcuna eh, poi il filmato ve lo facciamo vedere, adesso speriamo di regalarvi qualcosa in diretta Guardate che mucchio di tinche che abbiamo sotto vicino al chompers, si avvicinano addirittura a pochi centimetri al chompers Il nostro amo è laggiù, è laggiù, ancora lo devo trovare, vediamo se lo trovano eh E' spettacolare questa pesca a vista, guardate che spettacolo E stanno arrivando delle altre Adesso facciamo sollevare un po' il chompers e lo facciamo vedere eh Eccola, 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 eccola la partenza, eccola Che spettacolo Adesso però la devo recuperare, la vediamo dopo Signori e signori, eccola, sua maestà la tinca del Due Laghi Siamo in questo splendido contesto dei Due Laghi Avete visto la partenza in diretta sottoriva Adesso facciamo il rilascio in diretta Eh? La facciamo andare via da sola Eccola che va Vai che bella? Grazie a tutti